ci siamo ragazzi c'era chi si lamentava che non faceva più il red mario bene oggi è tornato a red mario e mi stanno invadendo però non ti hanno trovato guarda trash non capisco ma dove l'ha messo la check non l'ha messo guarda 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 mo lo punisco punisci vai vai lulu vai diglielo buona è startato di hook questo grazie lulu che cattiveria comunque metto ho visto che la gente starta con shaku con due check qui e due qui le puoi mettere proprio sotto al buff al gromp perché siccome spawnano tipo 15 secondi più tardi perché devo stare distanti le jack come fa a metterli attaccate no vai nel senso io le puoi mettere proprio sotto al gromp perché siccome spawnano io facevo sempre così infatti adesso col nuovo giro di giungla non ho idea devo valutare un attimo purtroppo hanno incasinato tutto sta sul cazzo proprio sta cosa che non puoi mettere tutte attaccate non la capirò mai evidentemente dava fastidio può forse per gli autoattacchi non lo so però era troppo comodo era comodissimo che altro era bello giocarlo support e piazzarli tutti nello stesso punto ah forse il gank livello 3 riesco a farlo da te ok prendo red vediamo se riesco a farlo ok allora io prendo per seconda la Q perché con la Q a livello 1 non riesco a gancare una lane come la top lane ma è un po' troppo lunga ti spottano le ward prima poi eh volibear blue guarda che facesse un counter gank o che si ritrovasse qua a parte arianna ho guardato dal lato sbagliato scommetto andiamo? via c'è arriva? ah con l'ignet ce la facevamo metto eh non sono riuscito a piazzarglielo unlucky vai comunque abbiamo preso il suo flash per un ghost più che altro la box è di mezzo millimetro non l'ha preso eh purtroppo la gold card prima è così non potevo farla cioè più tardi è così non potevo farla anzi no prima dovevo farla però non potevo ok è ok va bene va bene è davvero davvero buono davvero davvero buono ok qui abbiamo pushato uh è questo il real gank? ah è questo il real fai? da fastidio quando tutti hanno le sammler app sempre quando vai cioè adesso Mari non lo senti però sarà così si chiede come è possibile che Jinx sia morto esatto iall e exhaust e vieni che ci aveva ancora magari lì lì l'ha usato bene anzi sicuramente però vagli a capire vabbè uno per uno altrimenti non va bene comunque Oriano sa del tpa e la sua war dovrebbe essere scaduta in quella ah ma faccio un campo prendo il 4 sto un po' pushando eh cioè la mia wave sta pushando non drop benissimo pushato ma non drop quel che basta pushato ma non pushadissimo è gankabile mid? no non penso ho fatto il granchio ok forse adesso si ha preso confidenza ha usato pure il suo scudo appena guardato in realtà si sta muovendo verso l'idea di dire che venga oh ecco qua la prendiamo eh ci sei? ci sono tantissimo ci sto dentro una cifra eh qua pensavo che mi chiedesse ho sbagliato dopo nessuno qua? ahhh dov'è il nostro top? è in vacanza hai pinged mo ci dice è in vacanza ragazzi come in quelli della parte però loro sono tornati alla fine ah li chiudevamo easy erano in dubb perché mi stai body bloccando? sto andando back mate non è colpa mia e Shaco si è rincastrato non so come peccato ho spregato un flash user joined your channel ehi la eh 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 ti avevo detto Jacopo ah stiamo in una stanza stiamo reccando abbiamo sbagliato stanza è due volte che te lo dico eh vabbè non mi sono ricordato ecco meno male che c'è Filippo che è useful al contrario di te ah sorry vabbè tanto i video sono i tuoi Jacopo io sono solo la youtube star sono già da cani eh guarda mancavi tu e adesso ho fatto un plan bravissimo dai arrivederci Filippo arrivederci hai seguito il suo compo è entrato nella stanza per spostarci allora ho usato il flash quindi la bot train quasi quasi ci va proviamo ma vado verso il Drake però so io sono indietro perché non riesco a gancare nessuno mi sto vai picchiatele arrivo alla velocità della luce no 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 Drake fai il bravo tanto era il 4 cioè non potevo dicerlo vai fatti il grump fatti il grump ah il blu? si lo voglio bene tro sto uno pure grazie allora ehi la allora allora Orianna sta sopra eh par that's bad devo devo iniziare a sopra eh non c'è nessuno infatti pure io volevo ultare ma la nostra bot train era morta l'unica a aspettare che voli birganchi però lui sta affidato e sta avanti quindi me lo butterà culo può anche solo farmare voli volendo ehi ah fa male dov'è enable non ce l'ho vabbè tocca tentare l'ain gank l'ain gank in bot lane non so come faccio la bot lane a perdere però nonostante tutto a pushare cioè ci vuole una certa abilità ma io non posso provando a top è perma pushata io vorrei anche guarda jizz come gioca basta sono top io ah 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 oh thanks god oriana è botta l'avete vista si vai che non mi ha notato non mi ha notato mi ha notato beh forse ci prendiamo per sblattare l'hai fatta in fretta dai loro si vanno a fare il drake qua si prendono la torre il drake noo il red l'ha tippato vai ce la fai chillatela what ha tippato ha tippato riana mate sveglia wake up no c'aveva la ulti ok l'ha missata niente no ho missato la gold card non ho fatto la gold ho missato la gold card cioè ha fatto la red anziché la gold vabbè la fiera comunque la nostra jinx è scandalosa vai mate ce la fai perché trash è top salvati mate io credo in te vai vai si è salvato dove ho vittato quella gold card ma perché l'ho missata cioè è facile basta premere quando è giallo io ho premuto quando era rosso non lo so forse qualche trauma infantile attacco di daltonismo non lo so il rossa è il mio colore comunista niente sai che poi adesso vaga questa meme tipo dello youtuber no nel senso tipo la mia ragazza mi ha detto che è tedesca poi la mia ragazza my girlfriend is nazista eh tipo sta roba qui una cosa del genere io ho paurissima per la nostra botte le entrami possibili di nazisti ah no di loro non ho paura mamma mia mi need mi hai visto che pressure qua l'ho tolta aspetta aspetta voglio dire che cazzo condina mi need questa go sfondiamoli mates sfondiamoli oh aiuto barcode inci ho paura mate scappa e volevi ma che soddisfazione proprio sui denti mamma mia ti giuro ho sofferto per voli viar ma hai visto come gli ha tirato sui denti ecco ho preso la red card al posto la blue card ottimo si vede meglio insomma si si ho molta paura per quello che sta per succedere qua io ce l'ho avuto mate vieni mate aiuto arrivo bro sto senza vita no da oh ma scusate ma che stai senza vita posto ma non mi posso prendere la torre però così vabbè fa nulla se non venivi ci inchiappettavano fidati hai visto che pressure ha scolato rick bravissimo lo so io ho visto la pressione proprio quanti bar erano quanti bar erano quant'atmosfera quant'atmosfera allora c'abbiamo la nostra eachbane vogliamo fare un gank inverso c'è? c'è gayult midren ah io devo star mid il gank inverso esatto il famosissimo gank inverso guarda un po' come sta andando elena la top 6 la cava mmm bot no bot mia oddio ma la loro vina a meno farmi la nostra jinx ma come? che schifo no what sono stupido sono arrivo arrivo mate ma ecco eh quasi sono stupido però abbiamo fatto uno per uno hai visto come l'ho baitato lì trash non pensavo pensavo ci fosse un minion davanti però invece niente invece non c'era invece no invece mi serve un oculista ah vedi come la strada delle carte ahia senti il daltonismo è una cosa seria per favore ecco non diciamo panza guarda 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 io mi faccio la glfp quasi quasi oriano non c'ha la ult io mi faccio la glf ah no mi devo fare il morello me sa anzi no rick devi fare l'executioner che costa di meno e funziona sempre non quando sta sotto un tot d'hp vero cioè costa 800 gol quella sciapata perché nerva top ah perché vuole che che i nostri lo si che i nostri vadano a difendere e invece no jinx va bot botte la mia lenne ok e ci vado io la di gary sta in botte in you crazy guarda guarda come li inculiamo mate sto farmando in modo importante oh qua c'è trash e cosa sta succedendo ops what hai visto qual cut ecco preso visto heaven killing spree shutdown hai visto shutdown what mamma mia quanto sei bravo jacopo lo so lo so lo so lo so hai visto come ho beatato la skill quella lì che fa danni che io no l'ho presa visto come gli ho fatto credere ah adesso l'ho playato l'ho mandato sotto torre l'ho stuonato sotto torre e invece è è fatto così no però però eh ecco però non male jacopo che ogni tanto mi dai lezione esatto esatto intanto c'è l'hulu che da due minuti si sta reggiando la lane contro i radio da sola e beh scusa come insegna il buon daniele l'hulu è una top laner no no ma non può far nulla cioè non poteva far altro il problema è jinx che doveva stare lì con lei infatti jinx era un bel problema oh bitch ah no forse è meglio di no aspetta red occhio oriano orio 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 ora ce la ingrappiamo in toppline ma lo sa che c'è oh è ancora là dentro non riesco a buonitare arrivo pure io mate hello hello is that him is that him ti sta prendendo la daniele vendittite si si oh andiamo a farci la loro giungla dai esatto l'ho pingata hai visto che l'ho pingata confirm prendi tu che prendi più gold prendiamola in mid ti avresti un'idea aspetta si può usare la blue card qui funziona? no me la consiglio come uno d'attacco normale ah pushiamo pushiamo ah ah Quanto ti manca per l'executioner? Potrei farmelo adesso Vai vai vai, vai adesso Inoltre mi occupo un altro slot di un item che chiuderò chissà quando Vabbè, che te frega, tanto ti vendi la flaschetta Tanti faccio un gioco, va bene qualsiasi cosa, dai Ti vendi la flaschetta e c'hai un nuovo spazio, cioè non è un problema Ma come lo tieni alla fine game? Ah! Tipo un simbolo, oh mid, attenzione! Vai vai vai, tipo facciamo strage Perché ha flasciato per me? Che io non c'entravo nulla Pronti bitch? Next, guarda come riduci le cure Jinx non ha ultato Io nemmeno, anche perché, boh, mi sarei potuto trasportare a qui a qui forse Se Jinx avesse premuto R Ragazzi, ignare! Gli ha detto Mamma mia mate Guarda, se Jinx avesse ultato qui, avesse premuto R Anziché fare chissà cosa Un cazzo Sarebbero morti tutti Attenzione! Sono confusi! Vattene, vattene, scappa! Posto È arrivato qualcuno senza vita, eh, però Allora Poi c'è l'inferno, altra un po' Qua c'è l'inferno, altra un po' Ma cosa? Una station? Non è prove, non è No Hai addirittura almeno farm di Jinx, ma non ti vergogni Di questa Jinx Picchiala Jinx! Niente, devo aspettare, devo aspettare che cosa c'ha Che Irenia c'ha il coso up Eh? Ah sì? Ah! Ah! La gold card è storta Mate, stai calmo Mate, stai calmo, ho detto Aiuto, mate Fermalo, grazie mille Riusciti le cure? Mamma mia, meno male Hai visto come glielo avrei dove? Mamma mia, Matt Oh! Oh! E te? Ehi! Quella c'ha l'ultima Non ulta, non ulta Non ulta, mate Non ulta Oh! Gli hai detto! Eh, vieni da fac... Facciamo c'è sto trick, dai Rick, vieni a farti il trick, dai Fai vivante Dai, dai, vieni a farti il trick, dai Ve lo fa' lo zonio? Come sai, sì Mio, Rick Ma che fai? Mi fai questi errori di smiting Ma non l'ho proprio smitato Mi fai questi errori di no smiting No smiting Smitar di E Adesso l'ADShack è diventato no smite Sì, perché non c'ha un cap sui mostri Al Baron toglie 2000 Vuoi il blu, per caso? Ehm, dopo, me lo prendo solo dopo Tu fai altre cose Ok, me lo prendo adesso, vai Ma sì, dai Ormai l'hai iniziato, non voglio farti sprecare le Jack Grazie Le Jack sono importantissime, ragazzi Senza di quelle dove volete andare C'hanno i sindacati, c'hanno Se le sprechi dopo passi i cazzi Allora, prendiamo questo Le faccio le scarpe per il CD e... Andiamo a comandare Probabilmente me lo sarei dovuto far first item Sta GLP perché C'ha molto più impatto, penso, come first item Tanto, magicamente, tutta la mia giungla è sparita Eh, vabbè Rick, ma tu non sei un jungler Cioè, sei un clown Diverso Sei un buffone A me servirà meno di 200 gold Mi lasci qualcosa Eh, ma dopo le prende... Eh, ragione Le prende Ignar Nel dubbio Meglio non rischiare, capito? Esatto Ci sarebbe stata una possibilità, ma Meglio nel dubbio Cosa stanno facendo qui? Attenzione! L'attentato Che gank, ragazzi Se ne vedo un pochi così Mi sono fatto il mortal reminder direttamente Così imparano a buildarsi tutta quella armor Bastardi Cioè, cazzo, sono in track, porca puttana Oh, mate, arrivo, arrivo Ah, picchiare Ok Sono morto Boom! Guarda Easy, hai visto? Mamma mia Jacopo Se non ci fossi tu Oh Perché l'hai usato così tardi? Vabbè Comunque io sono insta morto come al solito Perché mi vedono? Non sono andato invisibile Mi dovrei fare una zona Perché mi stasciottano Confermo Ah, non mi può caricare così Ertizio lì Scappo Scappalo Ando top Non ho altro da fare Tanto non difendo in nessun modo Poli, slow, slow, ult Gli addetti tutte Mi odiano proprio Ohhhh Che god zogna ragazzi Boom ragazzi E quella? Questa è mia Se uccidiamo voli Ce lo facciamo Vai bicchia qualcuno Te frega Tanto siamo in 800 Mio! No Unluck Appena arriva voli ci giriamo Cioè quando viene qui dentro ovviamente Ho già capito che devo ultare qua Eh Lo sta zonando Lo sta zonando quasi Quindi non Non verrà in tempo Riducigli ste cure Matt Fagli senti come sono ridotte Eh Matt Meno male che gli hai ridotto le cure Oh mamma mia Oh what? Non era cold Non è arrivata Non era ancora pronta C'avevo il flash ma se avessi flashato sarei morto stesso Dovevo evitare quella cold Comunque abbiamo preso il baron Che sono tanti cold Per tutti Anche solo per i cold va bene Ma si dai Ok Eh Rihanna Eh Vuoi un po' di magic resist serve qua direi eh Magic resist Ma no ma non è fiddata Cioè C'ha solo 9 kill 180 minion Beh vabbè Adesso non c'è È un attimo A parte i rea Tutti gli altri sono fiddati I rea è trash Trash perchè è un support Poi perchè se ci pensi Allora vediamo un po' Vediamo se beccò qualcuno di voi Così al random proprio Vabbè Go! Mamma mia! La red card! Non c'era tempo per altre carte Siamo entrambi d'accordo che non c'era tempo per altre carte Assolutamente no Bastava alloccarla prima Oh qua c'è una C'è una penna Mi sa che è andata bot da Gnar No non c'è Oh arrivo bitch Go 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 Eccola invece Aspettate ragazzi che arrivano tutti qua Eh dove siete? Prendiamo una torre Vai torre torre Vai l'infastidisco da dietro Oh ha tirato un buon redemption Nice Niente Vane mi ha esposo in 3-8 attacchi Orianna aveva ultato già si Non l'ho visto Cioè non che adesso abbia importanza perchè è morta No 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 Ho dato i reali e basta Qui sono morta la Vane Vai prendiamo l'inibitor E ci andiamo a prendere il Drake Tanto E' inutile insiste per prendere se La torre Cioè Ce la facciamo a chiuderla? Eh c'è solo lei Non avete minion? No 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 non ce l'ha fatta Andate via Ah l'ho presa però Ah dai ce la facciamo dai Almeno prendi tutte e due le torre Ok ce ne andiamo Non scegliere me Non scegliere me Volevo guardarlo e andarmene Volevi Volevo invece Ce l'hai fatto il solo Drake? Io andavo top Cioè Ah si volendo si Cioè Si si vai tanto Solo Drake no Anche perchè li stanno portando lì Quindi cos'è ci andavo per No ma in effetti In effetti hai ragione Oh Tanto vale spittare top a sto punto Allora ci abbiamo Ci abbiamo altri soldi da spendere Tanto è molto bello che se lo fanno loro Tanto vale che spittare top Ma secondo me Nemmeno se lo fanno Cioè Lo lasciano e le dicono Tanto ormai È andata Allora ci serve Abbiamo l'inimito Rowan Anzi il Nexus Open Quindi se voi me li attirate Io posso fare Posso correre dei rischi inutili Possiamo correre dei rischi inutili Anziché fai dare no Che li vinciamo infatti Possiamo correre dei rischi inutili E andare Sempre verso il Nexus loro No Si 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 infatti E beh Sono ottima idea Jacopo Grazie Prego Te lo insegno dopo queste tecniche Vedi non se lo sono fatti a te Chi si è preso il mio Il mio blue buff Ci facciamo questo? F3 Vai Ah se mi hiti da lì che stai a scampire marittima Però mi hanno fregato il blue Che palla Oh Oh Io volevo andare back sinceramente Io non fighterei Secondo me Questo fight invece c'aveva il suo perchè Dai Si si Moltissimo Vedi? Ecco Quasi Un attimo c'era Ecco Sì No Girava da quel lato E io Eh Allora Funzionava Il nave è confuso Attenzione Adesso Adesso Puoi fare il backdoor se vuoi Oh grazie Non l'ho attaccata Oh Non l'ho attaccata io Trash si è suicidato Oh mio dio È il team? Hai visto? Così c'è vudo L'input è per No? Ascolta Jacopo se tu fai schifo giocare Non è che c'è No 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 Rick Vabbè non le sai queste cose Rick Lascia stare Non le sai queste cose Allora Lascia stare Non le sai Ma scusa ma tu sei Jacopo proprio quello che era Diamond 1 fino a una settimana fa? Si si Ah si ho presente Alla Come sta andando? Molto male Non so nemmeno che lei giocare quindi Onestissimo Allora dai Allora dai chiudiamo la forza Asso basta gingillarsi e gongoleggiare Andiamo Ottima idea Mi piace quando facli così Puscio qui Vuoli Non dovrebbe venire Quindi stiamo abbastanza tranquilli C'ho la ulti Possiamo cautare questo visto che venne il bot Però tu ancora non ci sei mmmm C'è vuoli qui c'è Se cautiamo Oh qua possiamo cautarlo Oh the god Perché? Guarda 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 chi sta cautando ragazzi Guarda come cauta No 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 Mitt perché mi ha shottato? Non lo so bro Non so come siano morti tutti gli altri in realtà Niente C'è come Come è successo Cosa è successo questo fight? Si sono fatti ulta da Da cosa? Cioè erano in due Da soli Non lo so Non so cosa sia successo Cioè erano in due da soli Ok? Se Nostra backline si è fatta shottare la cosa Io ho cautato quello che dovevamo cautare L'ho ucciso Poi basta Stava a botte le invenne È arrivata Abbiamo perso un fight in 4v5 praticamente Ma in 3 in realtà Guardano sta botte in Rinascia adesso Sono morti Ah si sono fatti shottata Eh ma sai che Stai chinks non è proprio il massimo nel positioning Secondo me si sono fatti shottata a Urian Ah 3 che ha 11 morti Ha perfino più morti di te Pensa te Vedi? Che schifo Io mi sono fermato a 9 Massimo a 10 arrivo Adesso vediamo se è massimo a 10 Ho detto massimo a 10 Eh si l'hai detto Oh quella quella Picchiate i realia dai Toglietela Toglietela Non è il dubbio Oh mito Oh 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 WTF WTF Unlucky Chi si è fatto lo Zezeroth? Trash eh, non possiamo vincere Ho fatto lo Zezeroth Conosce le tecniche serie della vittoria Eh, è quello L'ho dovuto uccidere perchè E' un bel problema Oh, qua mi s'è arrivato qualcuno Andiamocene prima che ci Schiaffiggino i denti Con l'uccello Dobbiamo caudare qualcuno Perchè se non li vinciamo li fatti in 5v5 Vayne non c'ha La QSS ancora Volendo potrei fare flash gold card su Vayne Però gli faccio penso Visto che c'ha la blood Con tutta la combo Metà o due terzi di vita Guardate dov'è Uriana Qua dovremmo fightare Ho iniziato ad andare a botto Uriana No, ormai è Visto la ultima Uriana sta da tutt'altra parte Se vogliamo fightare dobbiamo fightare adesso Mi stava shottando quella Guarda, dove sta Guarda dove sta Vabbè abbiamo perso Colpa mia Cioè la botto non fa schifo ma Ho fiddato a sfacca Cioè Cristo Come sai la Q1 adesso Volevo fare l'ultima azione Ma penso che non avrò nemmeno il tempo La Jinx ragazzi No, qua stavamo in 4v5 Il problema è che Jinx non si sa Non fa l'AD carry Però vabbè Sto game me l'ho fiddato troppo io fine Cioè L'hai visto? Gli hai ridotto le cure Doppia esplosione? Vedi? Vale doppio Grazie Jacopo per avermi cambiato anche questa volta Prego Rick Non c'è di che Un bel hack e un commento per il ritorno a Red Mario No dai però Jinx era scandalosa mate Eh lo so Però si ho fatto schifo Eh vabbè ma io Perché no Tf just need Eh vedi dovevo Dovevo backtorare Eh si assolutamente Ho ragione Ho ragione 23 assist Assute si E' molto utile Beh è stata utile Qua il problema è che Jinx Cioè Nel senso doveva solo carriare i fight Teoricamente Invece è solo morta Però ho strafiddato Ryan Cioè ho fatto schifo Però ragazzi Sì Esatto Io invece ho fatto Quattordici Sei dieci Cioè non è importante l'ordine ragazzi L'importante è il punteggio Destrutturando il punteggio capite davvero la vostra potenza Allora Eh perché no Come le date no In America è così Niente Bella a tutti Bella a tutti Erika Allora